Pietro, apostolo di Cristo Gesù, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella Sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza, indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando, anticipatamente, testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, Anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto Siate santi, perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terrino, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato, prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, per mezzo di Lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da semi corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. «Infatti, ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno». E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti, si legge nella scrittura «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi, dunque, che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Siate sottomessi, per amore del Signore, a ogni umana istituzione, al Re come al Sovrano, ai governatori come mandati da Lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il Re. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue levidure siete stati guariti. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Capitolo 3 Anche voi, mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico che agli occhi di Dio è di gran valore. Così, infatti, si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomessi ai loro mariti, come Sara, che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili, male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, poiché a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere i giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso, fugga il male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua, poiché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calugnano la vostra buona condutta in Cristo. Infatti, è meglio che soffriate per aver fatto il bene se tale è la volontà di Dio che per aver fatto il male. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito e in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere che una volta furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca nella quale poche anime, cioè otto, furono salvate attraverso l'acqua. Quest'acqua era figura del battesimo che non è eliminazione di sporcizia dal corpo ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Esso ora salva anche voi mediante la risurrezione di Gesù Cristo che è asceso al cielo sta alla destra di Dio dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Capitolo 4 Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne anche voi armatevi dello stesso pensiero che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini ma alla volontà di Dio. Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani vivendo nelle dissolutezze nelle passioni nelle ubriachezze nelle orge nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini possano vivere mediante lo spirito secondo la volontà di Dio. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio ciascuno secondo il carisma che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. Se uno parla lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo beati voi perché lo spirito di gloria lo spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si mischia nei fatti altrui ma se uno soffre come cristiano non se ne vergogni anzi glorifichi Dio portando questo nome. infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio e se comincia prima da noi quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio e se il giusto è salvato a stento dove finiranno l'empio e il peccatore. Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele creatore facendo il bene. Capitolo 5 Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata Pasciete il gregge di Dio che è tra di voi sorvegliandolo non per obbligo ma volenterosamente secondo Dio non per vile guadagno ma di buon animo non come dominatori di quelli che vi sono affidati ma come esempi del gregge e quando apparirà il supremo pastore riceverete la corona della gloria che non appassisce. Così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà agli uni verso gli altri perché Dio resiste ai superbi ma dà grazie agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al suo tempo gettando su di Lui un'invostra preoccupazione perché Egli ha cura di voi. Siate sobri vegliate. Il vostro avversario il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resisteteli stando fermi nella fede sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Ora il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo dopo che avrete sofferto per breve tempo vi perfezionerà Egli stesso vi renderà fermi vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Per mezzo di Silvano che considero vostro fedele fratello vi ho scritto brevemente esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. La Chiesa che in Babilonia è letta come voi vi saluta. Anche Marco mio figlio vi saluta salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo.